Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti, sono Picasso qua per un nuovo video questa volta Di nuovo su Dead Island, dopo cena finalmente per proseguire la nostra exploration di questo loco oscuro Dopo che dobbiamo trovare un ingresso, credo per questo Sì Trovo un ingresso alternativo per la grotta Trovo un sentire alternativo per la grotta, quindi suppongo dover andare di qua, anche perché altri posti non ce n'erano Ma che cazzo? Scusate che servono i cancelli all'ingresso se c'è la porta di servizio qua? Il sentiero di servizio di qua? E insomma, credo che non ci siano altre opzioni, vero? Ragazzi se muoio Una delle vostre donne Mi faccio un pompino Perché roba? Fuori uno Fuori due Avanti il prossimo Ma cosa? Se li ho shottati? Manico di scopa Cazzo ci fa qua? Cazzo Incoming No, mancato Doppia Ho preso No, 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 no Scappa Oh merda Calma Uno Due Merda Ce l'ho dietro Oh Guardate una cazzo di calmata Ma che Ti la ho Cazzo combatto L'aria Merda No, 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 no Mi serve qualcosa di Ah, ah You speak me right round Baby, right round Vaffanculo A parte che questi qua infoccati Non hanno alcun senso Perché dovrebbero entrare Già infoccati Muoiono da soli questi Cazzo Uno Ok Merda Cazzo Dammi il canale Fanculizzati Fare la finita Ma che cazzo Tutti esaltati qui Oh Swish Squish Squish Insettino Squish E allora Niente di meglio Buono a sapersi Questa Dove cazzo entra Dio cristo Oh Oh Ma Puttana E va Ah Ah Dio 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 Ok Mi sono rotto il cazzo Ma Vaffanculo Che cazzo Ma dove sta parlando Ah ok Cioè dovevo massacrare Uno di loro E portare il sangue Nel codo Ah ciao Ma che cazzo sei uscito Non ti vedevo più No vabbè Sti cazzi Uè Eh sì Sono un estracomunitario Bello vero Ehm What Ma cosa cazzo Raccolto Un dollaro Mmm Sì è certo che te li do Fidati che te li do io leandro Per un dollaro Mi servono per i progetti velenosi Cicciabella Che cazzo sono Figlio di ingrocchio Eh Ah no Di qua siamo arrivati Ok E quindi niente Quanto pare Siamo diventati Dei guerrieri Indigeni E abbiamo Ciurlato nel manico Il sangue Di uno di loro Quindi Ora Dato che Ovviamente La cosa Se n'è andata La macchina Perché se ne vanno da sole Voi non lo sapete Ma se ne vanno da sole Le macchine Grotta di Hoppe Barca di Mowen Laboratorio Andiamo al laboratorio Uè Bello il TP Eh Ah ciao Abbiamo finito La batteria Chiuda Allora L'anno scorso Episodio Abbiamo Recuperato Una Wakizashi Quindi Ora Dato che abbiamo La Wakizashi Vediamo Se possiamo Investirla Per qualche Progetto figo Dato che La Wakizashi È Putenta È putenta La Wakizashi Abbiamo anche Un Kugri Questa in realtà Possiamo venderla Non so neanche Perché ce l'ho Ok Quindi Fucile shock Lampo Il lampo Però è sul macete Veleno Corto circuito Difusione Veleno Insomma Eh C'era Lama rovente Però Ce l'abbiamo già Ufficialmente Una lama Che brucia No Secondo me Ci conviene Tenercela Per il momento Ci serve Un'ascia Due mani Porca troia Ci serve Una cazzo Di ascia Due mani Perché Con l'ascia Due mani O con la scura Grande Il vichingo Del sud Ci facciamo Questo E questo È potente Cazzo Ma non Non abbiamo Il necessario Ma maialina Tesla L'abbiamo Fatto Baseball Letale Ci servirebbe Una bella Mazza Da baseball Di ferro Poi c'è Lo spappolatore Del regista Dell'ammazzatore Lo spappolatore Perché noi Siamo figli E chi ha Ha preso Oh Finalmente Passera Cazzo Passera Qua c'è Qua c'è Un'altra Waki Zazazashi Peccato Peccato Che sia di livello Base Ma sono Molto Molto Tentato Che dite Ce la facciamo Con questa È livello 49 In realtà Quindi non possiamo Nemmeno Adoperarla Però Cazzo Sì 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 Investo Investo Per questa Scura Perché questa Scura È molto Interessante Scienza Demoniaca Cosa devo Fare Scienza Demoniaca Aiuta I scienziati Nel laboratorio Ok I scienziati Nel laboratorio Scienziati Nel laboratorio Scienziati Nel laboratorio Qualcuno di voi Ha bisogno Di aiuto Sì Tutti Tutti Adesso Hanno svegliati Tutti Tutti Che adesso Hanno bisogno Di tutto Ovviamente Miei Non sei tu Lui Lui Maneggialo Con cautela Attenzione Attenzione A quel Pisti Potassio Che l'è Scusate Io sono Lo sciacallo E porto Via il Cash Sento un brutto rumore In questa stanza Ma vabbè Sempre se non li trovo Già morti Corri Iniziamo da questa Ovviamente Oddio Sbatterono Per tutto Quindi Dobbiamo Aiutare Questa gente In modo tale Che poi Ci vengono dati I risultati Della ricerca Sul Il sangue Che abbiamo Recuperato Ora Tanto per capirci Dov'è In quel Casotto Lì E come si arriva Quel casotto Lì Oddio Aspetta Non è che Il casotto Quello giù Dalla scoglie Cazzo Scusatemi Un attimo Ok Porcia Quanto pare No Ricordavo male Non è Il casotto Quello giù Dalla scoglie Era quello Doveva essere Da un'altra parte Di cui mi sono Probabilmente Dimenticato Si tratta Di questi Due casotti Qui Cazzo Questo Moki Lo butta giù Mancato Addio Sembra di spaccare L'anguria Mi hai gattiato Una trambata Allucinante L'ho fatto Barcollare Dai vieni 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 Mazza Che botta La lagata Paurosa La lagata Paurosa Aiuto Mi invitarono Ad ucciderli Levati In mezzo Merda Aia Aia Cazzo Ok Ma mi serve Un'arma rapida Dammi la katana Mancato Mancato Spostati Ah no Sono questi All'interno Cazzo Li vedo messi Molto bene Devo dire Che sono messi Molto bene Dammi Questo Questo com'è Ah questo è così Ma scusa Perché lo tengo ancora Aspettate un attimo Ma perché tengo Quell'arma lì Quando posso tenermi Un bel canabo Medievale Qui Oh yes Allora uno incastrato Nel bagno Uè Minchia che slacca Guardami 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 Minchia che testa tua Oh Si si Non rompere Questa è mia Abbiamo un altro dietro Ah no Ok Questo Oh una camera Da letto Messa in Grazia di dio Ok Questo Questo Non c'è manco Un progetto Qui Ok l'altro è chiuso Nel cesso Cassaforte vuota Perché i zombie Giustamente Prima di Di morire Ripuliscono Le cassaforte Giustamente Perché Morire con dei soldi Dentro una cassaforte Giustamente Senti Non ho ancora sfondato La porta Di al tempo Aio Alzi Rest in peace Faccia entrare Gli asciugamani Ok Nient'altro Questo E questo Ok Dobbiamo tornare Al laboratorio Ma prima Di andare Al laboratorio Fatemi controllare Un attimino Se Trasporto Nella tecnica Di prodotti chimici Nel deposito Nel laboratorio Ah minchia Guarda che cazzo Di impianto Parabolico Ci hanno Dite che ci ammazziamo Se scendiamo giù Di qui Faccia un esperimento Aspetti Aspetti Si presti Per la scienza Provi a scendere Vede se muore No eh Ok Vabbè porci Ci si prova Piano 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 Ok Piano 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 Ok Beh dai Ci siamo riusciti Più o meno Spaccai Questa Cazzo Di testa Aia No 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 Merda Dai Dai la Waki Dai la Dai la Katana E' la Katana Di dio Questa Cioè ma che Li shot Sti cosi Che cazzo Volete Mi è impazzito Il gioco Oh No eh Ok A parte i fallimenti Epoca Senta Mi scusi eh Ho detto mi scusi Grazie Ecco appunto Cos'è Disperato Questo qui Muori Oh Medici Mio Sia tranquillo Ci penso io Ok Revolver Revolver Che mi viene in mente Passare dal tetto Ma come ci salgo io Ma vaffanculo Stia Giù Perché è in questo Coso qua Ah ma vaffanculo Ha aperto qui Io pensavo che dovessi fare una cosa Model do parkour E invece c'era la porta E smettetela Vi stavate mangiando tra di voi Basta Eh che cazzo Avanti E quando mai Mia Mio 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 Ok Questo Aglio staccati Addio 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 Ah 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 Torce fa una vippa Serve Stia giù O la stampo alla parete Come i suoi amici Questo Questo Allora Fatto ciao Mia Ah ok Questo Ok ma ci sarà un problemino Riportarla indietro Infiammabile Venenoso Incontaggioso Tutte ce le ha sto cazzo di Di tanica Speriamo che non esploda Stia giù Stia Giù Ok Miei Riportiamoci la tarichetta Non l'avevo già aperta io sto porta Sbagliato Sbagliato Sì vabbè Tagli una sberla Magari Magari la volta buona Che facciamo i botti di capodanno Con sta cosa Già passò Che cosa Immagino sta qui Che stanno aspettando Che succeda qualcosa Io che Entro così Avendo la Tanichetta Dentro Ma voi Sì vabbè ma quante porte Chiuse Basta Tutte chiuse ste porte Basta ma apritele ste porte Ma perché si interrompe La cazzo di registrazione Puttana schiava Dove la vuoi la Tanika Boh te la lascio qua No Ah Ecco Cioè boh si deve interrompere la cazzo di registrazione Non si è mai interrotta adesso si interrompe Grazie Ok possiamo usare Fenice porci Possiamo usare Fenice E abbiamo anche un punto abilità Quanto cazzo è che non aggiornavamo i punti abilità Io metterei questi per avere Possibilità di portare più proiettili Con noi E poi Ok grazie E adesso Ah ok Quindi adesso possiamo tornare a parlare col dottore Il dottor West Il dottor Far West Per gli amici Ma per parlare col signor Far West Dovrete aspettare porci Il prossimo episodio Perché? Perché questo cazzo di cosa Si è riempito di nuovo E di conseguenza Devo scaricare i video Per poter continuare a registrare Quindi spero che il video vi sia piaciuto Lasciate un commento Se sapete come fare Link alla pagina Se siete iscritti Qua su youtube iscrivetevi Campanile degli avvisi Per rimanere sempre aggiornati attiva E per il resto Noi ci rivediamo Nel prossimo episodio Ancora qui Su Dead Island A presto Ciao ciao